Non c'è posto per nessuno, si è sentita dir Maria, per favore vada via, che l'alloggio qui non c'è. Che facciamo? Dove andiamo? Marino, dimmi tu, il vicino che portiamo avrà il nome di Gesù. Chiede a questo, chiede a quello, chiede all'Oscar con il giante, portami a un buscate delante, ma da tu che sempre no. Che facciamo? Dove andiamo? Marino, dimmi tu, il vicino che portiamo avrà il nome di Gesù. Una salda, un po' di pieno, hanno trovato finalmente, tutto qui meglio che niente, ci sveveremo un po'. Che fatica, ma che gioia, cosa vuoi volerti più? Il vicino che ora spingi avrà il nome di Gesù. Che fatica, ma che gioia, cosa vuoi volerti più? Il vicino che ora spingi avrà il nome di Gesù.